La Sardegna riapre, è pronta ad accogliere i turisti e ad offrire loro, oltre alle tradizionali bellezze ambientali e paesaggistiche, anche una regione che garantisce la sicurezza sanitaria. Abbiamo voluto qualche cautela in più, abbiamo ottenuto una trattativa fino all'ultimo, abbiamo apparecchiato un sistema che con la registrazione, con la possibilità volontaria di accettare un'app che si occupa del tracciamento, avremo l'opportunità di passare e trascorrere una vacanza garantiti anche dal punto di vista sanitario. Tutto questo lo incentiveremo ancora di più attraverso un sistema di voucher e di bonus spendibili in regione per chi vorrà, per senso etico e solidale, effettuare anche un test prima di arrivare in Sardegna. Non possiamo dimenticare che il mondo ha attraversato una emergenza di proporzioni bibliche, una pandemia di questa natura non si vedeva da secoli e quindi questa dovrà essere una stagione di transizione e di programmazione. Abbiamo davanti alcuni mesi estivi particolarmente importanti per l'economia turistica e per il suo indotto, cercheremo come ragione di proseguire nel solco di misure che diano una mano alle imprese e ai lavoratori che hanno subito dei danni da questi lockdown, dalle chiusure e dovremmo confrontarci con l'esigenza di dare una spinta e una propulsione nuova anche in termini di promozione all'estero di questa immagine di una Sardegna bella e sicura dal punto di vista sanitario. Su questo solco credo potremo riprendere il cammino della crescita, dello sviluppo e dell'occupazione.